Ma io, come ben sapete, l'arabo l'ho studiato, il Corano l'ho studiato all'università. Mi spiace, è una religione che non stimo, nonostante l'abbia studiata, perché quello che dicono degli omosessuali, quello che dicono delle donne, quello che dicono delle persone che non credono nel loro Dio, lo vediamo sotto gli occhi di tutti quotidianamente. Non esiste un Corano moderato e un Corano invece per gli esaltati. Esiste un Corano, punto, e poi sta a ognuno o ogni musulmano decidere come interpretarlo. Se interpretarlo bene e quindi poi fanno quello che abbiamo visto, secondo loro, o se interpretarlo male ed essere dei musulmani moderati e quindi adeguarsi a convivere con noi.